Eccoci qua, buongiorno. Di nuovo da Telefriuli ci siamo con a voi la linea come ormai di consuetudine dopo il telegiornale per parlare dei temi all'ordine del giorno nella nostra regione ma anche per collegarci con diverse punti delle Friuli Venezia Giulia. Oggi saremo in collegamento da Prodenone con Daniele Micheluz per parlare della trasformazione di progetto FWG che da lista civica diventa partito ma anticiperemo anche un collegamento da Grado invece per l'anteprima di Mare Nostrom. In studio invece anticiperemo con Barbara Puschiasis di Consumatori Attivi, buongiorno intanto, un convegno che si terrà domani alle 10 in Sala Valduga presso la Camera di Commercio in Piazza Venerio numero 8. Un convegno importante con, credo, qualche buona notizia, almeno qualche buona notizia arrivata ieri per i risparmiatori traditi dalle banche venete. Cosa è successo? Ieri eravamo a Roma assieme alle associazioni del Veneto che ormai da tre anni e mezzo si stanno battendo per i risparmiatori traditi dalle banche venete. Abbiamo incontrato il governo, in particolare i due sottosegretari al MEF, Bitonci e Villarosa, nonché i vari gruppi parlamentari di tutti gli schieramenti politici. Chiaramente l'incontro al MEF è stato un incontro molto importante perché lì ci sono state date delle rassicurazioni e oggi abbiamo anche delle conferme. Nel senso che il fondo per il risparmio tradito che era già stato approvato con la legge di bilancio dello scorso anno e votato all'unanimità passerà da una dotazione di 100 milioni di euro a una dotazione di un miliardo e mezzo di euro. Questa è una grandissima novità. La seconda grande novità è che per accedere a questo fondo ci sarà una procedura molto semplificata che vedrà coinvolta l'ACF, quindi l'arbitro della CONSOB. Verrà predisposto un modulo. Questo modulo verrà messo a disposizione di tutti i cittadini al fine di permettere anche a loro stessi direttamente di presentare la domanda. La domanda sarà molto molto semplice e dovrà essere presentata entro il 30 di aprile. Questa domanda permetterà in un primo momento di ottenere un anticipo sul risarcimento pari al 30% della somma perduta e questo 30% non potrà essere superiore ai 100 mila euro. Poi chiaramente il fondo continuerà ad essere alimentato con i conti dormienti e su questo voglio essere chiara. Questa dotazione finanziaria non andrà a incidere sulla fiscalità, quindi sulle tasse che tutti i contribuenti pagano, ma arriva da quei conti che sono stati dimenticati all'interno delle banche o dalle polizze che sono lì abbandonate ormai da anni e che sono cadute in prescrizione. Quindi questi soldi anziché restare nel mondo bancario e nel mondo assicurativo vengono messi a disposizione delle persone che purtroppo sono state tradite dal sistema bancario e finanziario. Ecco domani appunto illustrerete proprio le istruzioni per l'uso, così avete intitolato già oggi, ci ha dato appunto qualche indicazione. Quindi vi ritenete soddisfatti per quello che effettivamente è a disposizione e per le modalità? Perché è una cosa sulla quale in generale vi battete anche il fatto che le procedure possano essere anche semplici e d'uso comprensibile a tutti. Diciamo che le richieste fin da subito sono state quelle di avere un fondo che sia sufficientemente dotato e di avere delle procedure semplici e che tutti i risparmiatori traditi possono accedere. Queste conferme ci sono state date ieri. Sappiamo che il percorso è un percorso da sempre in salita, quindi sappiamo che dobbiamo continuare a vigilare e a essere presenti assieme a tutti i risparmiatori perché finché ci sarà attenzione su questo tema riusciremo chiaramente ad avvicinarci all'obiettivo. Quindi oltre a quello che ci è stato detto ieri noi abbiamo ben presente quali sono le tempistiche e se il governo non terrà fede ai suoi impegni noi torneremo a Roma, torneremo nelle piazze e torneremo a protestare. Allora noi facciamo una piccola pausa, adesso poi torneremo a parlare con Barbara Puschiasis per andare a Pordenone perché come vi dicevo prima il progetto FWG da lista civica diventerà un vero e proprio partito la trasformazione che ufficialmente avverrà questa sera proprio a Pordenone alle 19. Allora Daniele Micheluzzo dovrebbe essere in compagnia di Alessandro Dare che è proprio il responsabile, il referente per Pordenone di progetto FWG. A voi. Buongiorno da Pordenone, siamo in Corso Garibaldi in quella che è la sede o meglio era la sede della provincia di Pordenone perché qui questa sera alle 19 c'è un importante convegno di progetto FWG, lista civica che però si è trasformata in partito. Allora per farci raccontare questo cambiamento abbiamo qui con noi Alessandro Dare, avvocato ma soprattutto referente di questa lista per la provincia di Pordenone. Beh insomma intanto una scelta particolare è quella di diventare partito in un momento nel quale di solito la politica prende un pochino la distanza. Intanto perché è stata fatta questa scelta e che cosa ci racconterete questa sera? La scelta è stata fatta perché è stata un'evoluzione naturale del successo che ha avuto la lista alle elezioni regionali con tantissima partecipazione, un risultato straordinario, oltre il 6%, insomma dietro Lega e Forza Italia, davanti a Fratelli d'Italia. E più perché abbiamo proprio colto una richiesta di partecipazione sia dei cittadini, di quelli che noi chiamiamo gli uomini del fare, cioè gente che non ha mai fatto politica, sia anche ad esempio delle tantissime liste civiche che sono disseminate sul territorio nei vari comuni. Non abbiamo nessun timore a chiamarci partito, anzi abbiamo voluto chiamarci partito perché riteniamo che la buona politica debba un po' ritornare alle origini, insomma sostanzialmente non ovviamente ai disastri della prima repubblica ma partito in senso buono come organo spazio democratico di partecipazione. Ecco, lista fondata da Sergio Emidiobini, oggi assessore regionale alle attività produttive, lista che ha espresso anche due consiglieri regionali e avete coinvolto anche personaggi, insomma vecchi e volpi della politica. Diciamo che non ho nessun timore a dire che Marco Pottino è stato uno dei protagonisti della costruzione del movimento di Sergio Emidi, progetto FVG a livello proprio anche organizzativo, ha fatto un lavoro straordinario avendo l'esperienza già di un partito. Dall'altro lato regione speciale perché ricordiamo che il progetto FVG per una regione speciale, così come la lista, nasce diciamo dalla fusione di due contenitori, chiamiamoli think tank all'inizio e quant'altro, regione speciale insomma, non è un mistero che uno dei promotori fu Ferruccio Saro, il quale oggi si definisce politologo più che politico e quindi dà un contributo di esperienza. Io dico, tornando al discorso di prima, dobbiamo ragionare in termini puliti ed alti e quindi per noi nuova politica significa contenuto e coinvolgimento delle persone. La scelta di Pordenone però per questa partenza 4.0, ripartenza, non è casuale? No, non è assolutamente casuale perché il progetto FVG lo sta già dimostrando in Consiglio regionale, vuole mettersi al centro della politica con i contenuti, sta facendo un sacco di proposte, ad esempio sulla riforma degli enti locali, con questa proposta di ritornare a degli enti intermedi di area vasta, tra cui anche quello Pordenone, poi lo chiameremo provincia, lo chiameremo come vogliamo. E in questo Pordenone, che secondo noi, pordenonesi all'interno del progetto FVG, ma non solo secondo noi, è l'area territoriale che forse ha subito di più questa sciagurata abolizione delle province, credo che debba ritrovare un ruolo nuovo. E in questo noi come progetto FVG vogliamo fare proposte molto concrete. Ecco, chiudiamo allora con quelli che sono gli appuntamenti elettorali del 2019, adesso che siete partito forse a maggior ragione, vi vedremo schierati anche con dei candidati sindaci. Allora, questo è uno degli altri obiettivi, nel 2019 oltre 100 comuni vanno alle elezioni, tra cui molti comuni importanti anche in provincia, uso sempre questo termine di Pordenone, tra cui Porcia, Prata, Cavasso, adesso ce ne sono tantissimi. L'obiettivo è sicuramente di partecipare il più possibile radicandoci sul territorio, sia con candidati sindaci, sia consiglieri e liste. Poi, siccome noi vogliamo essere un movimento inclusivo, lo abbiamo scritto nello statuto, siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione anche per, diciamo, tenere conto di quelle che sono le realtà locali, quindi non necessariamente liste pure di progetto FVG, ma anche federazioni o quant'altro. Il senso è mettere in rete le esperienze migliori, quindi certo parteciperemo, l'idea è quella, insomma, di iniziare a radicarci e iniziare a creare, appunto, una classe dirigente. Grazie, allora, Alessandro Darae, l'appuntamento è per questa sera alle 19 nella sala consigliare dell'ex provincia per questo convegno di progetto FVG. Vi ridiamo la linea. Grazie, grazie, Daniele Micheluz, in studio Barbara Puschiasis. Stiamo parlando del via ai rimborsi per quanto riguarda, appunto, i clienti delle banche venete. Domani, vi ricordo, alle 10 in Sala Valduga, in Camera di Commercio, in Piazza Venerio, a Udine, ci sarà un convegno proprio per dare le istruzioni per l'uso. E quindi, guardando la nostra regione, qual è la situazione? La situazione è chiaramente drammatica, perché parliamo di circa 16.000 azionisti coinvolti, quindi persone, imprese coinvolte in tutto questo, persone che purtroppo ad oggi, in tanti casi, si trovano ad affrontare situazioni veramente disperate, quindi a doversi rivolgersi alle comunità Carita, San Vincenzo, eccetera, per poter anche far fronte alle spese legate all'acquisto dei viveri, quindi dei generi alimentari. persone che si sono purtroppo dovute sovraindebitare per poter far fronte alla mancanza di risorse economiche per la loro vita. E parliamo però anche di tante imprese che si sono viste tagliare quelle che erano le linee di finanziamento, anche a causa della concentrazione, purtroppo, su un'unica banca, quindi banca intesa, di tanti diversi gruppi che sono stati ultimamente acquisiti. Ricordiamo, ad esempio, cassa di risparmio da ultimo, ma anche banca di Vicenza e Veneto Banca, qui state per un euro da parte di banca intesa. Quindi, anche ieri, noi abbiamo posto l'attenzione su quell'annunciato fondo da parte di banca intesa di 100 milioni di euro, che erano stati appunto annunciati, una misura che non ha mai visto la luce, è una misura di cui chiediamo conto, perché oggi banca intesa sta procedendo nei confronti dei poveri azionisti, delle banche venete, che erano state costrette a chiedere l'apertura di un fido di conto per sopperire temporaneamente all'impossibilità di vendere le azioni delle due banche venete. Quindi, qui abbiamo poi coinvolto anche la regione Friuli-Venezia-Giulia, in giugno abbiamo incontrato il presidente Fedriga e anche in settembre appunto ci siamo rivisti, perché l'obiettivo è quello anche di creare sul territorio Friuli-Venezia-Giulia un osservatorio sul sistema Banche Venete, ma che poi potrebbe essere allargato anche alle altre banche, attraverso il quale si fa un monitoraggio per riuscire ad anticipare quelle che poi possono essere delle problematiche che diventano irrisolvibili, come quelle delle banche venete in alcuni casi. Quindi siamo sul pezzo, vi invitiamo chiaramente domani a partecipare al convegno, perché le vostre domande ci aiuteranno chiaramente a chiarire tanti dubbi che ai quali in questi anni siamo riusciti a dare almeno parzialmente risposta. Alle 10 dunque in Sala Valduga, in Camera di Commercio a Udine, con consumatori attivi per i quali ringrazio Barbara Puschiasis, assieme ad Usbef e Codacons, sarete appunto a disposizione delle domande che vi vorranno fare. Noi ci separiamo un attimo per la pubblicità, prima però vado velocissimamente a grado, da Ivan Bianchi che con il nostro Paolo Bassi ci fa vedere intanto delle immagini sicuramente sempre belle della cittadina e del mare, insomma del porto di grado. Anticipaci solo di cosa parleremo dopo la pubblicità. Sì, ciao Francesca e buongiorno ai nostri telespettatori. Come hai detto vi facciamo vedere delle bellissime immagini, ma domenica durante la diretta del campanile ve le faremo vedere anche di più belle. Mi trovo in compagnia del vice sindaco Matteo Polo e di Emanuele Zorino, direttore artistico di Mare Nostrum. Mare Nostrum che ha come sottotitolo Mar Grando, appunto per ricordare come il mare sia unito a grado in un connubio unico ed imprescindibile. 5, 6 e 7 ottobre, tre giornate per venire qui a grado a scoprire la cittadina, a scoprirne la storia, la cultura, l'enogastronomia e la partenza è questa sera alle 18. Come già anticipato, noi ve lo racconteremo in diretta durante il campanile della domenica, in diretta dalle 11.30, proprio qui da Porto Mandracchia, da dove ci troviamo. E per raccontarvi magari in più nel dettaglio, vi rimandiamo dopo la pubblicità. A te Francesca. Grazie a Ivan Bianchi. Allora, ancora un saluto a Barbara Puschiasis. Noi ci ritroviamo tra poco. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Benvenuto al Presidente del Comitato Proloco d'Italia, Walter Pezzarini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Che è qui in un giorno speciale per le Proloco e per noi di Telefriuli, perché questa sera riparte, lo sapevo, che è il nostro quiz, connoto da Alexis Sabut, che torna per la terza edizione e ancora appunto saranno le Proloco, protagoniste. Allora, insomma, non c'è due senza tre. Tornate soddisfatti di questa esperienza con 28 Proloco. È stata un'esperienza positiva. Dopo due edizioni torna questa, partiamo proprio questa sera, 28 Proloco che vengono a raccontare i loro territori, i loro prodotti, i loro eventi che vengono organizzati durante tutto l'anno. È una trasmissione che fa conoscere il Friuli Venezia Giulia, perché soprattutto nel Friuli Venezia Giulia non conosciamo tante realtà, tanti prodotti e tante iniziative. Le Proloco ci mettono la passione, l'entusiasmo e con questi messaggi noi partiamo per la terza edizione a confrontarci per noi. Sappiamo che è un gioco, un gioco all'interno di una trasmissione che promuove il territorio della nostra regione. Questo è un aspetto molto importante. Insomma, ci si può divertire anche mettersi alla prova, imparare quelle cose che appunto, come dice lei, tanto spesso ce le hai sulla porta di casa, ma in realtà magari ne ignodi l'esistenza. Esatto, e poi sono confermate i tre domandoni, quindi anche i telespettatori da casa possono tranquillamente telefonare, far vincere il proprio Proloco, oppure depistare anche magari, quando una Proloco prende il volo, possono tranquillamente dare i punti ad un altro Proloco. Quindi sono confermate queste tre telefonate che devono venire da casa. 0432 573517 per partecipare, appunto, telefonicamente del vostro contributo. Lo sapevo, conosci il tuo figlio di Venezia Giulia, che parte questa sera dalle 21. Pezzalini non vuole svelarci tanto, ma io poi in realtà proverò a sondare, se è proprio davvero così di marmo. Ma intanto, torno da Ivan Bianchi, allora a grado. Ivan, raccontaci. Allora, mare nostro, ma a te. Sì, grazie Francesca. Voi adesso vedete un cielo terzo e fra poco vedrete il mare. Proprio dal Proloco di Grado, assieme all'amministrazione comunale di Grado, è organizzata questa tre giorni dedicata alla cultura e no gastronomia al mare, mare nostrum. Io comincio dal vice sindaco, Matteo Polo. Matteo, questa è una manifestazione che vuole anche portare l'extra stagionalità, andare fuori dalla stagione. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti i telespettatori di Telefriuli e grazie per essere qui oggi. Noi volevamo proprio mostrarvi preparativi il fermento che c'è in attesa di questa edizione di Mare Nostrum, che è la seconda, che è una ripartenza dopo una prima edizione andata benissimo, che ha coinvolto un sacco di pubblico e il pubblico è stato molto soddisfatto. È una manifestazione che parla appunto delle tradizioni, dei saperi dell'isola, delle tradizioni marinara, marinaresca, ma anche appunto della qualità della nostra cucina, delle nostre tradizioni. Quindi siamo qui appunto in questo bellissimo contesto che è il Porto di Grado, il centro storico di Grado per promuovere quello che noi siamo. Una festa che coinvolge peraltro tutta la comunità nella sua realizzazione, dai ristoranti alle associazioni locali, alle associazioni di albergatori. Quindi un turismo che farete, che fa sistema anche con la propria comunità. È un valore aggiunto, inestimabile, che vendiamo e mettiamo a disposizione dei nostri ospiti. Io vedo il nostro Paolo Bassi che adesso sta puntando verso le cali. Proprio lì dietro c'è Stefano Berletta, che è il presidente della Proloco, che noi salutiamo perché è impegnato adesso nell'installazione, nella costruzione dei vari stand. Ecco, un'ultima battuta. Insomma, aspettate tanta gente qua a Grado? Aspettiamo tanta gente. Il tempo per il weekend dovrebbe tenere, soprattutto perché siamo l'isola del sole, quindi speriamo di scamparla anche questa volta. Lo si vede dalle immagini. Oggi è una bellissima giornata. Partiamo alle ore 18, con tutta una serie di iniziative, quindi è l'attimo, il momento migliore per venire giù, degustare, assaporare, non solo il cibo, ma anche proprio l'atmosfera di questa manifestazione, che è veramente eccezionale. Ecco, grazie Matteo. Ma per capire l'atmosfera e soprattutto cosa offre Mare Nostrum, chiedo a Emanuele Zorino, che è il direttore artistico di Mare Nostrum, cosa possiamo venire a vedere noi, da stasera fino a domenica sera? Ma allora, Mare Nostrum è un contenitore, un proprio contenitore di eventi, quindi in realtà non c'è un momento specifico più importante dell'altro. Io consiglio veramente a chi, i visitatori, chi vorrà venire a Grado in questi giorni, di venire e calarsi un attimo in quella che è l'atmosfera, un'atmosfera che abbiamo cercato di creare attraverso una cosa nuova per Grado, che è questo itinerario, un itinerario della scoperta di quelli che sono i saperi e i sapori della cultura gradese. Nella pratica cosa c'è? Praticamente uno arriverà a Grado, potrà cambiare i suoi soldi in corone, quindi c'è una sorta di cambio valuta, e rientrare all'interno di un'atmosfera che è fuori dal tempo in realtà, che si ispira a tutte le varie periodi in cui Grado è stata ed è comunque un punto di riferimento per il turismo balneare e non solo, perché uno dei punti fondamentali su cui stiamo lavorando per Mare Nostrum è proprio quello di far capire che le peculiarità, le eccellenze dell'isola di Grado vanno oltre il mare, vanno oltre quelle che è, diciamo, il turismo balneare ed estivo, e perché è un luogo dove effettivamente si possono riscoprire delle tradizioni antiche, delle tradizioni particolari, delle tradizioni che solo qua possiamo trovare, quindi il cibo in questo fa da padrone perché è uno dei modi in cui l'eredità culturale appunto si trasmette. Possiamo riassumere concludendo in tre parole cosa vuol dire Mare Nostrum? Mare Nostrum sono eventi che appunto teatrali di strada, musica, che si sperdono all'interno delle calli dove appunto il tema è la graisanità e il Mare Nostrum è enogastronomia, quindi questo itinerario Grado Isola e Sapori che è una mappa, appunto il visitatore avrà una mappa che io qua vi faccio anche vedere, questo è il De Pliang appunto e questa è la mappa dove ci sono i vari punti di Grado Isola e Sapori dove tutti i ristoranti coinvolti all'interno della manifestazione prepareranno una ricetta della tradizione, quindi quello che possiamo dirvi è venite, venite solo a scoprirlo perché è veramente un'atmosfera che vedendola si riesce a vivere. Grazie Manuele, grazie a Matteo Polo, non resta che godersi questa manifestazione, l'appuntamento ve lo ricordo, è domenica alle 11.30 con la diretta del Campanile della Domenica condotto da Alexis Sabot, io ridò la linea a Francesca e insomma venite a trovare Grado. Grazie, grazie mille Ivan Bianchi e per il collegamento a Paolo Bassi, da Grado ci spostiamo a parte qui in studio ma anche idealmente a Moimacco e Colorello di Montalbano che saranno le protagoniste della prima puntata del quiz lo sapevo, conosci il tuo Friuli Venezia Giulia del quale stiamo parlando insieme al Presidente Walter Pezzarini dell'UMPLI del Friuli Venezia Giulia. Presidente, questo è un gioco, lo dicevamo prima, ma è anche un modo per valorizzare più di 230 proloqui che operano sul territorio regionale e quello che fanno e quello che hanno fatto per tutta l'estate quindi io le chiedo come è andata la stagione? Sì, diciamo che nella nostra regione ci sono più di 230 proloqui quando i comuni sono 216 perché c'è qualche comune dove ci sono più di una proloco per esempio domani parte la festa delle castagne a Valle Valle Comune di Faedis tanto per fare un po' di promozione nel Comune di Faedis ci sono tre proloco a Codroipo dove c'è la sede di Villa Manin c'è più di una proloco quindi questo sta a significare che tutti i piccoli paesi hanno una proloco per valorizzare il proprio territorio se pensiamo per esempio a Valle la proloco più piccola della nostra regione se non ci fosse quella proloco quel sito sarebbe completamente abbandonato l'estate, l'estate diciamo che è andata bene complice il bel tempo perché quando c'è bel tempo tutte le manifestazioni che vengono organizzate all'aperto hanno chiaramente un successo ma devo dire un'altra cosa noi in questi anni abbiamo puntato moltissimo sulla qualità dell'organizzazione dell'evento sulla qualità dell'offerta enogastronomica proponendo la filiera dei prodotti della nostra regione e questo è un aspetto molto positivo ultima cosa non meno importante l'accoglienza che viene fatta quando vengono organizzati gli eventi sul nostro territorio che sia un evento importante, grosso, conosciuto o piccolo l'accoglienza, la proposta enogastronomica di qualità fanno la differenza non esiste più che una manifestazione organizzata all'aperto venga improvvisata ci sono norme non parliamo di sicurezza in questo momento però ci sono norme che noi dobbiamo rispettare sia per chi organizza l'evento sia per i visitatori che vengono durante l'evento quindi deve essere garantita la tranquillità e la sicurezza io dico un'altra cosa oggi le prologue oltre a organizzare eventi sono il collante della comunità perché dobbiamo creare momenti di aggregazione per riunire le nostre comunità e questo è un aspetto molto molto importante con i tempi difficili che stiamo vivendo Guardi, ha spiegato davvero quanto siano importanti fuori di retorica veramente le prologue nel concreto dei nostri paesi del nostro vivere quotidiano insomma sia per promuovere che per creare momenti di socializzazione di stare insieme che fanno sempre bene grazie per essere stato con noi a Valter Pezzarini io le auguro buon lavoro e in bocca al lupo a tutte le prologue che parteciperanno al quiz lo sapevo che parte questa sera dalle 21 in diretta su Telefriuli Telefriuli che ora vi propone le previsioni del tempo il nostro meteo con Marco Virgilio e poi c'è Enzo Cataruzzi che è già pronto con il suo punto continuate a seguirci l'informazione torna questa sera alle 19 buon pomeriggio buongiorno e ben trovati a tutti aggiornamento del mattino con in evidenza ancora l'alta pressione guardate che ancora ci interessa il centro di Massimo si è spostato qua in prossimità del Mar Nero vediamo una depressione più a ovest ma soprattutto notiamo questa B una depressione non così ben delineata ma c'è qua c'è un campo depressionario che porta dell'instabilità al sud ma attenzione sta risalendo andrà a incrociarsi con e anche a fondersi con una saccatura depressionaria probabilmente da ovest che richiamerà dell'area più umida soprattutto nella giornata di domani con un aumento della nervosità e delle piogge poi domenica già tenderà la depressione a riportarsi più a ovest destinata ad andare verso i Pirenei e quindi allenterà subito la morsa da noi una morsa peraltro abbastanza blanda e poi quindi tornerà il sole nell'arco della giornata di domenica e soprattutto lunedì e martedì andiamo a vedere intanto oggi rimane bella la giornata con molto sole atmosfera limpida qualche velatura si farà strada la sera dai quadranti scusate dai settori meridionali della nostra regione e saranno le velature che indicano la risalita dell'aria più umida di quella depressione venti orientali da nord est con la bora sul ruffo di Trieste farà ancora abbastanza caldo oggi con 24 gradi previsti di massima andiamo all'aumento della nuvolosità previsto per domani con un cielo che si farà da nuvoloso a tratti coperto ci sarà qualche pioggia a carattere sparso con delle pause anche senza pioggia poi una maggiore probabilità di precipitazioni nel pomeriggio tra il pomeriggio e la sera soprattutto nelle zone interne a tratti le piogge potrebbero diventare anche abbondanti e ci sarà qualche rovescio localmente temporalesco calano un po' le temperature massime invece aumentano le minime e per effetto della copertura nuvolosa i venti di scirocco che mostrano proprio il richiamo da sud di quest'aria umida andiamo a vedere gli scenari di lungo termine confermano ancora a parte queste possibili precipitazioni di sabato confermano questa risalita da temperatura che per parecchi giorni forse fino diciamo alla fine della seconda decada potrebbe rimanere sempre un gradino al di sopra della media seguiremo se non ci saranno cambiamenti cosa possibilissima perché poi insomma andando oltre oltre i 7-8 giorni andiamo in un campo avanzaminato però per ora diamo questa segnalazione cioè possibile mantenimento di una temperatura un po' al di sopra della media per diversi giorni vediamo invece il riepilogo per finire con la domenica che vedrà un cielo molto nuvoloso al mattino con la possibilità di residue piogge tra la notte e parte della mattina poi si esauriscono le piogge confinate soprattutto a est in montagna poi arrivano le schiarite e anche il sole nel pomeriggio qualche banco di nebbia inserata o foschia temperature vedete che tendono a aumentare il tempo buono di lunedì e martedì quindi la settimana prossima inizierà con bel tempo con qualche addensamento in montagna a temperature tra i 10 e i 24 gradi poi vedremo cosa succederà qui vedete variabilità possibili di piogge ma sarà l'occasione per parlarne stasera e naturalmente vi ricordo ancora una volta che si cambia orario con Meteo Weekend non più alle 19.45 ma alle 19.30 quindi 7.30 dopo il telegiornale Meteo Weekend e ci vediamo stasera parleremo di rifugi alpine una puntata molto interessante e qua vedete alle mie spalle il richiamo a seguirci col meteo anche sul sito di Telefriuli è tutto vi saluto arrivederci a più tardi a tutti a tutti a tutti a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.